Giornata mondiale dell'ipertensione arteriosa. Buona la risposta di pubblico per l'iniziativa di prevenzione di Istituto Oxologico Italiano a Villa Caramora a Verbania. Sono state 96 le persone che hanno risposto positivamente nell'arco della giornata e che si sono sottoposte alla misurazione della pressione a un consulto con i medici presenti. Circa la metà dei pazienti che quotidianamente frequentano gli ambulatori in villa si sono fatti controllare e a questi si sono aggiunte persone che proprio per aderire alla giornata dedicata alla prevenzione cardiologica hanno raggiunto la sede verbanese di Oxologico. L'ipertensione arteriosa è una patologia molto importante circa 15 milioni di persone in Italia sono affetti di ipertensione e che per teso solo uno su quattro è ben controllato della terapia. Noi specialisti chiamiamo infatti l'ipertensione un killer silenzioso perché molti non sanno di averlo quindi spesso è sotto diagnosticata o se diagnosticata spesso non è trattata bene. Il problema dell'ipertensione non è solo l'ipertensione in sé ma quelle che sono le complicanze che ne possono derivare a livello cardiovascolare. Pensiamo all'infarto, pensiamo all'ictus, allo scompenso cardiaco, alla fibrillazione atriale. Quindi una serie di aspetti veramente importanti dal punto di vista cardiovascolare. E nella giornata di oggi ci è sembrato utile fornire alle persone che afferivano in Villa Caramora fornire delle informazioni comunicate in modo il più semplice possibile per poter spiegare quello che ha l'ipertensione, dare quindi quello che può essere un supporto culturale, cioè quelle che possono essere indicazioni in base alle linee guida europee, ma anche un supporto il più pratico possibile, cioè misuriamo insieme la pressione arteriosa perché da lì si parte per una corretta diagnosi ed una corretta terapia. Come si lavora qui in Villa Caramora sulla prevenzione cardiologica? Noi siamo molto attenti a questo aspetto perché la cura dell'ipertensione è sia cura ma anche prevenzione per evitare di avere appunto le complicanze cardiovascolari. Facciamo sia delle visite nei pazienti ipertesi, andiamo a vedere quelle che sono i complicanze come danno d'organo, facciamo la prova da suorzo, l'ecocardiogramma, i doppler delle carotidi, però abbiamo la possibilità di fare anche delle visite dietistiche perché la dieta e l'attività sono baluardi della terapia dell'ipertensione e della prevenzione cardiovascolare.